Questo corto... profuma di figli. Facciamoci venire in mente un'idea. Ti piace? L'ho preso da mia zia. Ma che ci facciamo? Vinciamo tutto. Devo vincere questo prego. Devo tornare a casa con la statura. L'unico modo per prendere i soldi è scrivere un corto con Giorgio Colangelo. No, Colangelo, non ti prego, sta in tutti i corti. Azione! Vai Corrado, alla grande! Stop! Mi sembra una buona!